Resta in stale il futuro della città siriana di Aleppo. Nella riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU, le due risoluzioni avanzate da due fronti opposti sono state bocciate. Affossata per i voti insufficienti la proposta russa, che sosteneva l'iniziativa dell'inviato dell'ONU Staffan de Mistura sul ritiro dei combattenti da Aleppo. Bocciata invece con il veto russo, l'altra risoluzione avanzata dalla Francia è appoggiata da 40 paesi. Il testo chiedeva all'immediato cessate il fuoco ad Aleppo e una no-fly zone. Con il veto la Russia ha confermato quello che sappiamo da tempo. Le azioni di Mosca nelle ultime settimane indecchiano chiaramente in che modo considera essere impegnata nel processo di pace. La popolazione ad Aleppo vive in tattosettimane drammatiche, la città è sediata e almeno 250.000 civili sono in trappola in mezzo ai combattimenti, gli scontri più intensi nella parte orientale della città. Sappiamo che nei quartieri nell'est di Aleppo i centri ospedalieri non funzionano, i medici non riescono a salvare i tanti bambini che sono in terribili condizioni, non possono far altro che lasciarli morire. Bisogna fermare subito le violenze e in seguito dobbiamo essere pronti immediatamente a fornire aiuti anche nell'est della città. Aleppo è presa nella morsa dei combattimenti tra forze fila assade e ribelli. Al tempo stesso viene bombardata dall'aviazione russa. Se non verranno fermate le armi, ha denunciato pochi giorni fa l'inviato dell'ONU del Mistura, la città nel giro di due mesi sarà rasa al suolo.